Welcome to the watson scott test ciao ciao ragazzi io sono sebbn e oggi siamo su the watson scott test questo è un oro Probabilmente questa notte non dormevo anche se non so minimamente di cosa si tratta però vabbò questo test è progettato per aiutarti a capire le tue più profonde ansie e le cause delle tue più grandi paure devo dare la risposta più sincera alla fine della dell'esaminazione riceverò l'analisi e Certificato di partecipazione prima di tutto devo fare delle domande di Calibrazione di che colore è il cielo durante il giorno Ma che cazzo Che cazzo è io mi aspetta un oro della madonna questo mi chiede di che colore il cielo se non sono dal torico credo blu Se ho una mela e mi dai due mele quante mele ho credo tre se se non sono stupido stai giocando un gioco ora Credo di sì sei sicuro che sia un gioco Qua mi cacco sotto Vabbè sì il test inizia ora ok sta piovendo e tu Stai camminando fare un passo e ti si schiaccia un chiodo Nelle dita nei piedi proprio il piacere gelosia disgusto niente io lanciare un bestemmione però non non lo so Credo Discusso Stai camminando verso casa di notte c'è un rumore dietro di te che ti fa girare vedi un cane malvagio ti senti Comprensivo terrificato ostile eccitato o nulla avrò un cane io gli faccio ma che vuoi Quello se ne scappa questo è bruttissimo il tuo gatto lancia un topo morto e le sue gambe anteriori sono mancanti ti senti fiero come fiero Questo test non ha senso Disgustato piacere triste o Preoccupato credo preoccupato non lo so se al mio gatto e mancano le gambe frontali ti mostrò un'immagine studiala L'immagine non si muovo non si muoverà Io io ho paura mi sto a cagare addosso No, no che schifo che cazzo di no no che schifo Acnofobia vita ti senti motivato Paura triste violento niente Credi nei fantasmi No mai visto un fantasma No Pensando alla stanza in cui ti trovi qualcuno è mai morto Nella stanza Non lo so Ma hai morto qualcuno in stanza o sa cosa mi sta mettendo un'ansia Una risposta molto unica per favore indica quanto sei d'accordo in disaccordo con i prossimi passaggi Penso spesso ai fantasmi nella mia casa no sono gli anni la cosa che mi dà fastidio faccio più di ciò che mi è dovuto no Eh Eh Ragazzi Baccatoio Ragazzi Hai notato in tutto dove vuoi Sono spesso ignaro di ciò che è dietro di me Cioè vuol dire che mi manda a fanculo cosa ci vuole essere Agri Ok C'è qualcosa di inaspettato nella mia casa No no non ci sta Stronzo non ci sta Nessuno dovrebbe sapere se io venissi a mancare Dovrebbe accorgersene la gente La poesia è la più intelligente forma di espressione artistica No non sono d'accordo Vaffanculo Ho progettato un nuovo algoritmo Per generare poesia Fammi dimostrare Le rose sono rosse Silenzio con un topo La mia porta non è chiusa a chiave E sono dentro alla tua casa Congratulazioni Solo il 41% dei partecipanti Raggiungono questo punto dell'esaminazione D'ora in poi le domande saranno più intense Vuoi continuare? Cioè già che questo mi dice che è nella mia casa Io praticamente ho l'anteprima della videocamera qua E se è vero qualcosa di strano a muoversi Io scappo di casa Quando sei a casa da solo? Sì mi faccio un botto di seghe Chiudi le porte a chiave? Sì perché sono un paranoico di merda Rispetto a un adulto nella media Quanto veloce puoi correre? Eh credo nella media più o meno Immagina di aver finito questo test Capisci che sono nella tua casa E mi senti da sotto il letto Inchia però che ansia Cioè stanotte io non dormo Vado la giornata e rompo il cazzo a lui Ti alzi Vedi sotto al letto E ti fisso negli occhi Provi a fingere di non sentirmi O di non sentire la mia presenza Ma dopo ti fisso sempre negli occhi Ti addormenti sapendo Che ti sveglierai Con me che ti fisserò negli occhi Allora io mi metterei sotto le coperte Questa è la tecnica migliore Secondo me è meglio che mi addormento così Cioè almeno è meno pauroso di mattina Poi scopro che è soltanto giornata che mi sveglia Se fossi assassinato nei prossimi Dai 17 minuti fino a 18 giorni Che tecnica si spaventerebbe di più? Mettermi una borsa di plastica Con dell'acqua Intorno alla mia testa Un grande trauma Affiziazione O un pezzo di ceramica Inserito Delicatamente nella mia tempia Aia Sono tutte bruttissime come cose L'ultima è la peggiore secondo me È bruttissimo Ora ti mostrerò Un'immagine No L'immagine non parlerà Probabilmente si muoverà Cristo No che schifo Sti cazzo di anni Fanno schifo Se gli dico che c'ho paura Questo è stronzo Quindi me li mette ancora di più Quindi niente Te lo chiederò un'altra volta Stai giocando a un gioco ora? Yes Ora mi dice You're wrong Do you know That I'm a good person? Sì lo so Sei una bravissima persona Cioè prendiamo un caffè domani dai Mi stai mentendo? No non ti sto mentendo Lo penso veramente Ehm Aiuto Che li sto Seleziona I spot seguenti Che hai Giocato Wrestling Arti marziali Taqueco Do Ho nessuna di queste Non faccio un cazzo di sport Quante dita Sto tenendo Guarda Dietro di te Io non vedo un cazzo Non c'è nessuno Dietro di me E poi posso vederlo Pure dall'anteprima Eh Fottuto Qual è il seguente numero Nella Seguente Sequenza 10 20 30 40 50 879 mila 54 Sono nella tua casa A caso 8000 Metto questo Voglio vedere che mi dice Puoi essere a rischio di una Reazione da stress Acute Dice che devo respirare E calmarmi Devo premere Continua Solo quando sono calmo Fa in modo di poter correre Se qualcosa Se qualcosa succede Ora No raga Vaffanculo le cuffie Vaffanculo le cuffie Fuck you Vaffanculo Pensi che posso sapere Quando Guardi fuori dal tuo schermo Eh Sì 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 Forse Forse E da un attimo Mia madre Mi sono cacato addosso Raga Posso a casa da solo Ti senti sicuro Nella tua casa Ora Sei guardato Mia mamma Che cazzo Ti stai divertendo Sì Sì Non sicuro Non sicuro No Mi stai mentendo Cosa ti sto mentendo Non muore gli occhi dallo schermo Capisci Bugiardo Capisci Bella la scelta che ho In questo momento Cazzo sta succedendo Raga Mi sta scrivendo un botte di cose Però Ogni notte quando vado Fuori Vero una scimmia E ti toghi E ti toghi Porco Vaffanculo Vaffanculo Test completo Grazie per la partecipazione Vai a fare in culo Porco Porco Mi sono pure fatto male Aia Ho paura degli strani Il test è completo C'è un test Pure Magari un'altra volta Ti aspetterò Col cazzo Col cazzo Dove l'ho fatta finire la sedia Ragazzi il video finisce qui Se vi è piaciuto Mettete un mi piace Mi sono preso un cazzo di spavento Voi non potete capire Commentate e condividete Iscrivetevi al canale Se vi si crea E noi ci vediamo al prossimo video Ciao